Benvenuti a tutti a un nuovo Deep Dive. Oggi ci immergiamo in un documentario davvero forte, Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. L'acconta le proteste di Euromaidan in Ucraina tra il 2013 e il 2014, un periodo davvero cruciale. E non dimentichiamoci che è stato candidato agli Oscar come miglior documentario. Già, una nomination agli Oscar mica male. Ma forse prima di buttarci a capofizzo nelle proteste facciamo un passo indietro. Bisogna capire bene il contesto, no? L'Ucraina si trovava in bilico tra due strade. Da una parte l'accordo commerciale con l'Unione Europea, dall'altra legami più stretti con la Russia. E queste incertezze, diciamo, ha acceso la miccia, giusto? Il governo ucraino, con la Russia che premeva, all'improvviso cambia idea sull'accordo con l'Unione Europea. Apriti cielo, la gente si è infuriata. Esatto. Tanti ucraini vedevano l'Europa come una porta verso la libertà, la prosperità. La decisione del governo, vista come una concessione alla Russia, è stata un colpo basso. E così Piazza Maidan a Kiev è diventata il centro di una protesta enorme. All'inizio pacifiche, poi, le proteste sono degenerate in scontri violenti. Il documentario riesce a catturare questa escalation in modo molto diretto, anche grazie ai filmati girati dai manifestanti stessi. Ecco, questo è un punto forte di Winter and Fire. Il regista ha usato tantissimo materiale girato dalla gente comune, giornalisti improvvisati, manifestanti. E questo ci fa vivere gli eventi in prima persona, quasi sentiamo la tensione, la paura, ma anche la speranza. E questo ci porta a un altro aspetto importante, l'attenzione per le persone. Non si limita a mostrare gli scontri, ma ci presenta chi ha partecipato a Euromaidan. Studenti, giornalisti, operai, sacerdoti. Un mosaico di storie. Già, e le loro testimonianze sono davvero forti. Ci parlano di difficoltà, di forza d'animo, di speranza, ma anche della violenza usata dal governo per reprimere le proteste. A proposito di repressione, il documentario non nasconde la brutalità degli scontri. Ci sono immagini dure, a volte scioccanti, che mostrano l'uso di cecchini contro gente disarmata. Feriti, morti. Winter on Fire non addolcisce la pillola. Ci mostra senza filtri le conseguenze tragiche della repressione. Fa capire quanto può essere alto il prezzo da pagare per la libertà. E questo ci porta alla fuga del presidente Viktor Yanukovych in Russia. Una vittoria per i manifestanti, certo, ma con un retrogusto amaro, vista la perdita di vite umane. Una vittoria che apre un nuovo capitolo per l'Ucraina. Un capitolo che, come sappiamo, non è ancora finito. A proposito di questo nuovo capitolo, la fuga di Yanukovych è la fine di Winter on Fire, ma non la fine della storia. Nel 2022 il regista ha fatto un sequel, Freedom on Fire, che documenta l'escalation del conflitto con la Russia. Ma prima di addentrarci in quel capitolo, mi ha colpito in Winter on Fire il ruolo del giornalismo cittadino. Ah, sì, è un aspetto fondamentale. Winter on Fire non esisterebbe senza il contributo di chi ha ripreso tutto, con i propri cellulari, con le videocamere. Questo dimostra che nell'era digitale il potere di documentare non è più solo dei media tradizionali. E questo ha avuto un impatto enorme non solo sul racconto di Ora Maidan, ma anche sulla mobilitazione dell'opinione pubblica mondiale. Vedere quelle immagini girate da persone comuni ha creato una fortissima empatia con i manifestanti. Certo, il materiale girato dai cittadini ha permesso di bypassare i filtri dei media ufficiali, spesso controllati dal governo. E questo ha avuto un ruolo importante nel far crescere la solidarietà internazionale con l'Ucraina. E a proposito di solidarietà internazionale, Winter on Fire ha avuto un impatto che va oltre l'Ucraina. Il film ha ispirato movimenti di protesta in altri paesi. Dimostra il potere universale del suo messaggio di libertà e democrazia. Assolutamente. Winter on Fire è diventato un simbolo della resistenza contro l'oppressione. Un esempio di come la determinazione, la solidarietà possono portare al cambiamento. Ma ogni protesta ha le sue caratteristiche, i suoi obiettivi, le sue sfide. Certo, ogni movimento ha la sua storia. Però Winter on Fire ha contribuito a creare un'immagine della protesta pacifica, un modello per i movimenti di tutto il mondo. E parlando di immagini, parliamo di come Winter on Fire ha influenzato la percezione dell'Ucraina nel mondo. Prima di Euromaidan, l'Ucraina era vista come una specie di appendice della Russia, un paese con poca autonomia. Vero. Ma le proteste di Maidan e l'invasione russa della Crimea hanno portato l'Ucraina al centro dell'attenzione. Il mondo ha scoperto un paese con una sua identità, una sua storia, una sua voglia di indipendenza. E Winter on Fire ha avuto un ruolo chiave in questa riscoperta dell'Ucraina, mostrando il coraggio, la determinazione e la voglia di libertà della sua gente. Sì, il documentario ci ha offerto uno sguardo dall'interno, dando voce ai protagonisti. Ci ha fatto capire meglio le ragioni della loro lotta. E questo ha generato un'ondata di sostegno internazionale per l'Ucraina, mettendo pressione sulla Russia per le sue azioni. Ma il film è stato anche criticato per una sua presunta mancanza di attenzione al ruolo dei gruppi di estrema destra nelle proteste. Un tema delicato. Alcuni critici dicono che Winter on Fire minimizza o addirittura ignora la presenza di gruppi ultranazionalisti a Euromaidan. Ma questo punto di vista non considera che Winter on Fire si concentra sulla dimensione popolare e pacifica delle proteste, sulle motivazioni della gente scesa in piazza. Quindi, focalizzandosi sulle storie di persone comuni che lottavano per la libertà e la democrazia, il documentario non ha distorto la realtà, ma ha scelto di dare risalto alla partecipazione di massa e all'anelito di un futuro migliore. Esatto. Winter on Fire ci offre un'istantanea di un momento storico cruciale, senza pretesa di essere completo. Ci invita a riflettere sulla complessità dei movimenti di protesta a non semplificare. E a proposito di complessità, prima di passare al sequel Freedom on Fire, vorrei dedicare un po' di tempo ad analizzare le critiche a Winter on Fire, per capire quanto siano fondate e le diverse prospettive su questo tema. Ottima idea. Analizzare le critiche ci aiuterà a contestualizzare meglio il film, a capirne i limiti. Nessun documentario può essere completamente oggettivo e Winter on Fire non fa eccezione. Benissimo. Allora, questa è la nota perfetta per chiudere la prima parte della nostra analisi. Nella prossima parte ci addentreremo nelle critiche a Winter on Fire e inizieremo a esplorare il sequel Freedom on Fire. Riprendiamo il discorso su Winter on Fire e affrontiamo un tema spinoso, le critiche al documentario, soprattutto per come l'ha rappresentato i gruppi di estrema destra. Sì, non possiamo far finta di niente. Alcuni hanno detto che il film minimizza o addirittura nasconde la presenza di questi gruppi a Euromaidan. Come mai questa dimenticanza? Beh, è vero che alcuni gruppi di estrema destra c'erano a Maidan, però bisogna dire che erano una minoranza, non rappresentavano tutto il movimento fatto di studenti, intellettuali, operai, gente comune, tutti uniti dalla voglia di cambiamento e dalla speranza di un futuro europeo per l'Ucraina. Quindi, concentrandosi sulla gente comune e sulla parte pacifica delle proteste, il documentario non ha travisato la realtà. Ha scelto di dare spazio alla partecipazione di massa, al desiderio di un futuro migliore. Esattamente. Winter on Fire non vuole essere un'analisi completa di tutte le forze in gioco, ma un racconto emozionante della lotta di un popolo per la libertà. E in questo, secondo me, ci riesce benissimo. Certo, capisco la scelta di puntare sull'emozione, ma fosse un accenno più chiaro alla presenza di gruppi di estrema destra avrebbe dato un quadro più completo. È un punto di vista valido. Però bisogna considerare che dare troppo spazio a questi gruppi avrebbe rischiato di oscurare il messaggio principale del film. La lotta pacifica contro un regime corrotto. Capisco. Ogni documentario fa delle scelte. Decide cosa mettere in primo piano e cosa lasciare in secondo piano. L'importante è che queste scelte siano trasparenti e non distorcano la realtà. Sono d'accordo. E a proposito di trasparenza, forse vale la pena dire che il regista di Winter on Fire, Evgeny Afinevsky, ha risposto alle critiche. Ha detto che non voleva fare un documentario storico completo, ma catturare l'energia e l'emozione di un movimento che lottava per la libertà. Una precisazione importante che ci aiuta a capire meglio il film e le intenzioni del regista. Ma torniamo al nostro viaggio attraverso la lotta per la libertà in Ucraina. Dopo Winter on Fire, Afinevsky ha fatto un sequel, Freedom on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, che documenta l'escalazione del conflitto con la Russia. Esatto. Se Winter on Fire ci ha mostrato la nascita della protesta e la lotta per la democrazia, Freedom on Fire ci porta nel mezzo del conflitto armato e ci mostra la resistenza del popolo ucraino all'invasione. Un cambio di tono importante che riflette il drammatico cambiamento della situazione in Ucraina. Certo. Freedom on Fire è un pugno nello stomaco, un documentario che non lascia indifferenti. Afinevsky ci porta in prima linea, ci mostra la brutalità della guerra, la distruzione, la sofferenza, ma anche il coraggio e la forza del popolo ucraino. E lo fa attraverso le storie di chi vive la guerra in prima persona. Soldati, volontari, medici, civili. Un insieme di voci che ci fa capire l'impatto devastante del conflitto sulla vita delle persone. Esattamente. Freedom on Fire ci ricorda che dietro le statistiche, i bollettini di guerra e le analisi politiche ci sono persone vere, con le loro storie, le loro speranze, i loro sogni infranti. E ci mostra anche la straordinaria capacità di resistenza degli ucraini, che nonostante tutto non si arrendono, lottano per la loro libertà, per il loro futuro. Sì, Freedom on Fire è un inno alla forza d'animo, al coraggio, alla determinazione. Vediamo gente comune prendere le armi per difendere la loro patria, volontari che rischiano la vita per portare aiuti, medici che lavorano senza sosta per salvare vite. Un'immagine di unità e determinazione che contrasta con la propaganda russa che cerca di dipingere l'Ucraina come uno stato fallito, diviso al suo interno. Certo, Freedom on Fire ci offre una prospettiva diversa, ci mostra la vera anima dell'Ucraina, un popolo che lotta per la sua identità, per la sua dignità, per il diritto di scegliere il proprio destino. E questo messaggio di resistenza ha un eco che va oltre i confini dell'Ucraina. Freedom on Fire, come il suo predecessore, è diventato un simbolo di lotta contro l'oppressione, un inno alla libertà e alla democrazia. Un inno che risuona in tutto il mondo, dove la libertà è minacciata, dove la giustizia è calpestata, dove la dignità umana viene negata. E ci ricorda che la lotta per la libertà è una lotta di tutti, una lotta che richiede impegno, coraggio, solidarietà. Ma a proposito di Freedom on Fire, quali sono le principali differenze rispetto a Winter on Fire? Oltre al tema, ovviamente. Beh, oltre al tema e al contesto storico, ci sono alcune differenze significative nel linguaggio cinematografico. Mentre Winter on Fire si concentrava sulle immagini crude delle proteste, riprese dai manifestanti, Freedom on Fire usa anche tecniche più tradizionali, interviste, filmati di repertorio, animazioni, per dare un quadro più completo del conflitto. Quindi potremmo dire che Freedom on Fire è un documentario più maturo, più riflessivo, va oltre la cronaca degli eventi per cercare di capire le cause profonde del conflitto e le sue implicazioni a livello globale. Sì, penso che sia una buona sintesi. Freedom on Fire non si limita a documentare la guerra, ma cerca di capirne le radici storiche, politiche e culturali. E lo fa dando voce a diverse prospette, ucraine, russe, militari e civili, vittime e carnefici. Un approccio coraggioso e ambizioso, che ci invita a riflettere sulla complessità del conflitto e a non semplificare, a non giudicare frettolosamente. Esattamente. Freedom on Fire non offre risposte facili, ma ci pone domande scomode, ci spinge a metterci nei panni degli altri, a cercare di capire le ragioni di chi la pensa diversamente da noi. E questo è forse il messaggio più importante del documentario. La necessità di un dialogo aperto e onesto, anche quando ci sono opinioni diverse, per cercare di costruire un futuro di pace e di comprensione. Un messaggio importante in un momento storico in cui la divisione e l'intoleranza sembrano prevalere. Sto d'accordo. E con questa riflessione direi che possiamo concludere la seconda parte del nostro Deep Dive. Nella terza e ultima parte ci concentreremo sulle implicazioni globali del conflitto ucraino e sulle sfide che ci aspettano nel futuro. Ed eccoci alla parte finale del nostro Deep Dive su Winter on Fire e Freedom on Fire. Abbiamo parlato delle proteste di Ero Maidan, dell'escalation del conflitto con la Russia e delle polemiche sui documentari. Ma cosa ci insegna questa storia a livello globale? Beh, il conflitto ucraino ha messo in luce i punti deboli dell'ordine mondiale. Ha riportato al centro del dibattito temi come la sovranità nazionale, il diritto all'autodeterminazione, l'equilibrio di potere tra le grandi potenze. In che senso ha messo in luce questi punti deboli? Prima di tutto ha dimostrato che il sistema di sicurezza europeo basato sulla deterrenza e la cooperazione è in crisi. L'invasione russa dell'Ucraina ha rotto il tabù dell'inviolabilità delle frontiere e ha riportato l'Europa in un clima da guerra fredda. Quindi potremmo dire che il conflitto ucraino ha segnato la fine di un'epoca, quella della pace e della cooperazione in Europa dopo la caduta del muro di Berlino. Sì, è una possibile interpretazione. Il conflitto ha riportato in auge la logica dei blocchi contropposti e ha riacceso le tensioni tra Occidente e Russia. E poi ha messo in luce la debolezza delle istituzioni internazionali come le Nazioni Unite che non sono riuscite a prevenire o risolvere il conflitto. E quali sono le conseguenze per l'equilibrio di potere a livello mondiale? L'invasione dell'Ucraina ha accelerato il processo di ridefinizione dell'ordine mondiale con l'emergere di nuovi poli di potere e nuove alleanze. Da un lato abbiamo visto rafforzarsi il legame tra Stati Uniti ed Europa che hanno reagito all'aggressione russa con un fronte unito di sanzioni e sostegno militare all'Ucraina. Dall'altro lato c'è stato un avvicinamento tra Russia e Cina che vedono nell'Occidente un nemico comune. Quindi stiamo assistendo a una sorta di nuova guerra fredda con due blocchi contrapposti che si scontrano a livello economico, politico e militare. Sì, anche se questa nuova guerra fredda è diversa da quella del secolo scorso, non c'è più una netta divisione ideologica tra i due blocchi che sono mossi da interessi pratici più che da visioni del mondo opposte. E poi la globalizzazione e l'interdipendenza economica rendono più difficile una separazione netta tra i due schieramenti. E quali sono le sfide che ci aspettano nel futuro? Le sfide sono tante e complesse. Innanzitutto dobbiamo trovare il modo di gestire la competizione tra grandi potenze senza cadere in uno scontro continuo che potrebbe sfuggire di mano. Poi dobbiamo rafforzare le istituzioni internazionali e renderle più efficaci nel prevenire e risolvere conflitti. Infine dobbiamo promuovere il dialogo e la cooperazione tra i popoli per superare le divisioni e costruire un futuro di pace e prosperità per tutti. Parole sagge che ci invitano a non sottovalutare la gravità della situazione e a impegnarci per un mondo migliore. E con questa riflessione si conclude il nostro deep dive su Winter on Fire e Freedom on Fire. Grazie per averci seguito in questo viaggio nella storia recente dell'Ucraina. Una storia che ci riguarda tutti e ci invita a non restare indifferenti di fronte alle sfide del nostro tento.